Pronto? Cavallere Moschitta? Chi fa? L'ho disturbato? Ci botto un cucetato. Ragionare l'attuca, sogno. Sì, sono ragionare l'attuca. L'attuca, un ragionare. Cavallere, io sogno, ragionare. Hai capito? Oh, finalmente. Chi fa? L'ho disturbato? No. Ho pensato, siccome mia moglie oggi se ne ha chiuso al paese, no? E parlando fra noi, io sogno solo bello di india. E siccome hai i quattro sicci che ho cattato stamattina, se stai giocando lei, la pasta con le sicci ci piace con loro, no? Ora mi toccava il cavallere, sempre se non avevo impegno il cavallere. Che impegnato lei? Ah, è libero. E allora perché non me ne trovate? Eh, guarda se che fa io, nel frattemmo li preparo e noi mangiamo bene in santa pace. Il vino, il vino c'è, chi potrà il vino? Alla mia casa. Chi sa perché manca vino? C'è il vino che ha il vino dopo uno. A pensare che è l'ultrionno, mio figlio Iachino. Ci ha parlato Coca Cola e ha salvato un bottiglione, no? Un disgraziato si ha domicciato fino a domani mattina. Certo, sembri la cava e mi chiede, certo, mi ci dico. E che ci vuole fare? No, lei non ha portato niente, cavallere. A mettere solo la panza e la presenza. Lei non ha portato niente. E se vuole portare una cannola, portare una cannola. La crema, senza crema, non mi interessa. Va bene? E poi, un'altra cosa, cavallere. C'è un bello femmino. Sì, mi chiede bene, una nuova. Sabe chi deve essere venuto tutta la nuova? La vi presentano, che no? Si poteva sale in dubbio. Se si mette avanti la televisione e si vede, tanto si è muscoli. E infine, mi chiede l'avvocato. L'avvocato mi chiedeva. E chi diceva se l'ha visto con c'è niente? No, si vede una muccia, no? Sono di specifiche pornografiche. Quando ne mangiamo i ticci e poi non lo vede. Certo che si vede una nuova. Tutta l'anno ancora si vede. Non vedremo, non facciamo molto molto, cavallere. Allora che fa? Aspetta! Va bene? Avanti, io sto preparando nel frattempo. Avanti, arrivederla. I cannoli, le cannoli sulle a buttare, va bene. Ah, finalmente. Oggi arriviamo con il cavallere. A me ne faccio quattro sessate magari. A me ne sono i ticci. L'avevo messo in una finestra. Puttana di caino. Guardate che le atti si... Li s'cazzate. Si mangiano i ticci. E chi mi mangiare ora che mi andavo il cavallere? Mi chiede. Ma questa maniera sta qui sopra di mia. Parola mia. Stai a te. Ci mangiano. Ci fuleno. Ce li rovino. Io si ci si ammocano bene i frischi frischi. Ma non stavo usando la carta. E ora come faccio? Come faccio? Guardate che il telefono sta suonando un'altra cosa. Pronto? Oh cavallere che cosa c'è? Non può venere? Come non può venere? E per chi non può venere? C'è un impegno? E ora questi sessi che si mangia? E mi posso mangiare quattro sessi io? Sarà per un'altra volta. E va bene. Non so piacere. Va bene. Non mi affanno. Arrivederla. Devo chiudere. Prima che si brucia la cipolla. Arrivederla. Arrivederla. Bastardiati. Vi ammazzo ora. I ammazzo. I ammazzo. Niente. Il veleno. Mi picchi i frischi. Adivento peggiore sarame. Unica. I frischi. Ci fatti i frischi dell'ombrella. Bastardi. I figli frischi si mangiano. E ne ammazzo io. Ne ammazzo. I figli frischi si mangiano. Bastardi. Vammazzo. 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 Bastardi. Come? I nostri amici. I figli frischi. Bastardi. Ma io vammazzo. Vammazzo. Cmi non asli. Cmi non asli. Vammazzo. Vammazzo. Bastardiati. kolmazzo. 얼� присig CARframe. Vammazzo. 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 Grazie.